Ciao a tutti, oggi ho deciso di fare il terzo video con i miei amici Bellissimi, scusa E faremo 4-5 sfide Una è un bonus per una ragazza che me l'ha richiesto E spero che vi piaccia questo video Iniziamo Ciao Ciao Uè, finalmente Leonardo Di Caprio Ha vinto un Oscar Più o meno Uè, battacca Bolzato, sì Bolognese, vuoi battacca Voi battacca, finalmente Leonardo Di Caprio e vinto un Oscar Battacca Socce Socce Battacca Ragazzi, scusa One more Letta, no, vuoi che capisci No, ti ho sentito, lo dialetto, non so che voi dovrà Socio, battacca, la piedina, non via la piedina Ah, non via Pandora, la piedina Romagnolo, secondo te esiste una città in dire che si chiama Romagnolo? No, è perca Socio, battacca, non è Calabria in questo momento Però, quello non so chi non è Calabria Beh, comunque sei Romagnolo, dai, va bene No, non fa bene No, 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 non fa bene Mi sanno Mi sanno Ricciore We go in Cake shop Together Ingrigio No Io perché io We go Più o meno Non è inglese Ingrese, però Americano, lì Ok Vabbè, 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 vabbè Io moro E' l'americano rapper Ho provato Ma Attung Tedesco Posso dire una frase? Sì, dire Il combo per un cuoco Piancere per aver finito riso Riso? Riso? Non è cinese, tedesco Ah, non è cinese Ah, non è cinese Ma non è cinese Non è cinese Non è cinese Sì, è cinese Oggi era bellissimo No, no, no Ma qua non ce l'ho dovuto pensare Ecco qua Ma qua no Qua proprio Io Pagco, eh Ok, non ti dico Soprano frage Today Today Oggi Tu cosa vuoi finire la frase con la lingua? Pergirò Vieni With With Con With Eravallo E questa che cazzo la traduce scusami eh Indonesia E' Israele MA SI CAVOLO Aio Giai da scappi la zuppa Calabres No Aio Stavano Aio Zuppa da me Aio Guarda Collo Mio Poi Mano No Mi veramente Mi fai capito Un polso No Braccio Il dorso della mano? No, pure lo so. Stavo staccando il piede. Braccio quello qua sotto. Quasi. Qua? La pancia, la schiena, il fianco. La braccia, dove? La pancia. Qua? No, aspetta. Qua? No, qua. Ok. Qua? No. Io la posso piegare la gamba. La gamba? Ma che? Cioè, veramente. Non ho fatto la foto. Sì, sì, sì. Sì, ma va. Allora, però, guarda che non veniva. Ho fatto la gaffe. Sì. Oppala. Trucco. Trucco. Rosso. Rossa. Rossa. Oh, 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 oh. Vai di 50. No, no. 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 Parina. Vaccamo. Sì sì no si lingue anche qui Ci sono molto sensi Oh non si appartiene Si dai tagli qui No 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 si è solo bene Si è bello Il gurino Tonna Buon farino Per un impasto Trucco Trucco Aspetta che devo scendere Attimo il bello è becco a tutti il cat Allora si chiudere Aprilo Fondotinta burro 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 è così oh no che carina ti sfogli quel burro non è da boba anche la fronte però è proprio una bella gnocca no che la tecca non basta così no è buono no sopracciglia no no ho già visto le sopracciglia no 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 sugo di pomodoro ma porca di quella paletta sugo di pomodoro sulle sopracciglia no 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 per un po' di talassia ma perchè devo fare sta cosa ma io lo dico non l'avevo pescato così se è vero se è vero se è vero se è vero invece doveva essere il tuo posto che culo se è vero se è vero se è vero eyeliner eyeliner cacao ahahah vabbè quello è facile è esperienza posso in senso lui di notte no burro panno e cacao non sei più bella adesso che prima carina vedete trovo zè si ah aceto balsamico aceto balsamico no no vedo che bacchiamo poi non si vede quello lì e anche qua e lo sapevo se è quello è qua il baffetto il collo il collo il collo il collo il cazzo eh illuminante di ovo che culo ci vedo un po' ah si va bene e il risultato finale è questo incredibile nooo è roba per lei no è roba per lei no è roba per lei e poi la passate alla persona e poi la passate alla persona che c'è eh ma si vede se faccio solo un cuore allora fai vedere se si vede passiamo alla persona d'infianco d'infianco e là e poi il posto poi il verbo lo scrivi sotto qua il verbo scusa ma chi ha capato questo vuoi scrivere verbo razione ok con cosa o con chi dove luogo e l'ultimo è quanto un cazzo è molto spazio quello passiamo questo è un gioco che facevamo a scuola durante le ore di pausa e non so il nome non so come si chiama però si c'è chi diceva che si chiama una sigaretta allora vediamo ma si può aprire ma si può aprire possiamo aprire nooo Enrico in coda con l'uccello con la capoella con la capoella ad aprire nooo questo è deliceo non è che parla forza con l'uccello l'avevo detto io l'uccello strano no ama lastra di merda lastra di merda rossa scusa nel faro dopo domani no va bene ha molto senso Antonio Antonio mi sono visti canale perluzzo manfredone nel 1500 no visitare visitare con la Luisa a Medjugorje nel 1800 Rapperonzolo si spalma la sinnetà addosso con un mestolo della Santa Fe 4.000 4.000 Enrico scrosta il bildo in Siria sempre sempre senza sfruttare no no è diretto proprio e non vedo il cazzo hai fatto la vita di merda l'ubesco ha fatto anche lui com'è non ci sono riusciti sbriuzzi mamma che pittura è sbriuzzi c'è sul naso per andare all'ospedale così perché se no mi arrestano c'è sul nasino non è una foto no il regista ha detto no anche se comunque mi piace no via via no 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 si no 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 Grazie a tutti.